Siamo arrivati finalmente al Vidal Day. Arturo Vidal, manca solo l'annuncio ufficiale nel momento in cui sto registrando questo video, ma è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter. Un calciatore che Antonio Conte in particolare richiede ormai da diverso tempo, è uno dei suoi pupilli se non il suo pupillo, ed è il calciatore che più di tutti ha chiesto per rinforzare il centrocampo dell'Inter. Manca quindi, come dicevo, solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore, perché la trattativa per Vidal è stata definitivamente conclusa fra Inter e Barcellona, le cifre dell'operazione. Per quanto riguarda il cartellino, negli ultimi giorni si erano diffuse diverse voci secondo cui l'Inter avrebbe pagato circa un milione di euro di indennizzo al Barcellona per liberare Arturo Vidal. Nella giornata di oggi, invece, è stata smentita questa voce e infatti l'Inter non pagherà questo milione di euro di indennizzo al Barcellona, ma Vidal arriverà del tutto a parametro zero. L'unico accordo presente fra le due società riguarda una percentuale di bonus che l'Inter potrebbe pagare al Barcellona nel caso in cui, chiaramente, Vidal andasse a centrare determinati obiettivi, presenze, gol, assist e cose di questo tipo. Nel caso contrario, l'Inter acquisterebbe Vidal a parametro zero. Per quanto riguarda il contratto che verrà firmato dal Cileno, sarà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il primo anno percepirà 5 milioni più bonus, mentre il secondo anno ne percepirà 6,5 più bonus, cifre che ha riportato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Il terzo anno riguarda appunto un discorso a parte perché per ora c'è una semplice opzione, quindi per ora il contratto sarà solo biennale. Il programma di Arturo Vidal. Nel momento in cui sto registrando questo video siamo in attesa dello sbarco a Milano di Vidal, che arriverà tra le ore 20 e le ore 20 e 30 di oggi, che è domenica 20 settembre. Sbarcherà a Milano e domani mattina procederà alle visite mediche di Rito, al termine delle quali nel pomeriggio raggiungerà la sede dell'Inter e firmerà ufficialmente il contratto, che lo legherà appunto al Club Nerazzurro per due anni. L'annuncio ufficiale quindi di arrivo di Arturo Vidal è atteso sostanzialmente fra la serata di lunedì e la giornata di martedì, quando verrà ufficialmente archiviato tutto l'Inter burocratico e medico precedente appunto all'annuncio stesso. Dopodiché, una volta fatte le visite e firmato il contratto, Vidal andrà subito al centro di allenamento Suning dell'Inter e si metterà a disposizione di Antonio Conte fin dal primo allenamento disponibile dopo la firma, perché l'obiettivo sia di Vidal che di Conte è quello di essere disponibile già per la partita di sabato sera alle ore 20 e 45 a San Siro contro la Fiorentina, esordio ufficiale nella prossima Serie A dell'Inter. L'obiettivo di Vidal è esserci alla prima chiamata disponibile, diciamo così. Due sono i retroscena che di fatto sono immersi nel corso delle ultimissime ore per quanto riguarda la trattativa. Il primo ve l'ho in parte spiegato in precedenza e riguarda il famoso indennizzo che l'Inter avrebbe dovuto pagare al Barcellona, indennizzo che è stato smentito dalla Spagna fino a questa mattina, mattina di domenica 20, insistevano dicendo che l'Inter avrebbe pagato questo milione di euro di indennizzo al Barcellona, mentre qui in Italia diverse fonti fin dalla mattina riportavano una sorta di smentita arrivata direttamente dall'Inter. E infatti la versione confermata è stata quella italiana, l'Inter non pagherà nessun indennizzo. Il secondo retroscena più simpatico riguarda il numero di maglia che vestirà Arturo Vidal. Vidal avrebbe chiesto il numero 8, che però al momento è sulle spalle di Mattias Vecino. Mattias Vecino è in uscita all'Inter, ma come discorso che vale un po' per tutti i calciatori, non è assolutamente certo che si riuscirà a piazzarlo. Quindi per ora Vidal prenderà il numero 22, numero che tra l'altro richiama anche il giorno del suo compleanno, che è il 22 maggio, data che per noi interisti è piuttosto significativa per usare un eufemismo. Quindi prenderà il 22 a chi aveva già il Barcellona e poi, qualora invece Vecino dovesse essere ceduto, potrebbe passare al numero 8. Dove giocherà Vidal? Lo dicevamo anche negli scorsi video che ho trovato sul nostro canale YouTube di Passione Inter. Giocherà da mezzala nel 3-5-2, quello sarà il principale ruolo del Cileno nell'Inter e poi, nel caso di passaggio al 3-4-1-2, potrebbe, in alternativa, ricoprire anche il ruolo di trequartista alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku. Questo era il punto della situazione della trattativa Vidal, con tutte le cifre e le tempistiche dell'operazione. Quindi ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube di Passione Inter. Ci trovate ogni giorno in diretta dalle ore 19. E vi invito anche a fare un giro nel box descrizione di questo video, dove trovate i link per il Patreon di Passione Inter e il Fantasy di Passione Inter. Attraverso il Patreon potrete abbonarvi al nostro progetto e ricevere contenuti esclusivi e sempre differenti. Mentre attraverso il link al Fantasy troverete tutte le informazioni per potervi iscrivere alla Lega di Passione Inter, nella quale potrete, appunto, iscrivervi e sfidare noi, sfidare noi redattori, al Fantacalcio di Passione Inter. Vi ricordo, quindi, poi, di lasciare un mi piace a questo video e, come ho detto prima, se non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube.